e quindi non hanno il tempo, lasciano che nella vita succedano mille altre cose ma queste cose succedono nella vita di tutti quanti non è, loro pensano, sai sono sfortunato, mi succede questo, mi succede quell'altro potevo andare di qua, potevo andare di là, poi c'è questo problema, oggi mi è successo questo ma guarda, che tutti noi stiamo nella stessa barca, non è che la nostra vita è differente solo che se tu vuoi riuscire a realizzare un progetto online o penso da qualsiasi altra parte, anche offline se non metti da parte del tempo per poter cominciare a guardare, a costruire, a mettere da parte i pezzi a montarli giorno dopo giorno, un mattoncino una volta ma come potrà mai succedere? se aspetti sempre che viene quello che deve fare il controllo della sicurezza dell'altro per aggiungere due pezzettini al volo quando lui viene e poi dopo passano altri sei mesi prima che ci ritorni sopra o trovi il tempo per dedicarti dici, ma non è qualcosa che desideri prima di tutto e comunque se lo desideri non ti stai tanto da fare in maniera sufficiente con sufficiente consistenza e coerenza giorno dopo giorno per poterla costruire quindi io quello che ho scoperto è che mettere da parte del tempo avere del tempo tu a disposizione è veramente il massimo mettere da parte del tempo per sacrificare quello che sei oggi per quello che potresti essere domani perché se vuoi realizzare i tuoi sogni le cose che hai in mente devi mettere da parte del tempo per poter mettere dei mattoncini che ti aiutino a realizzarle capisci? se non hai lo spazio per poter creare, per poter mettere piano piano le fondamenta alle cose che desideri realizzare magari se non è che pioveranno mai su di te, mai quindi magari sarà soltanto mezz'ora, venti minuti ma se tu riesci a riservare questo tempo e essere così disciplinato da tutti i giorni utilizzare quei 20 minuti per raggiungere quell'obiettivo per migliorare quella cosa, sei sulla strada giusta per poter raggiungere qualsiasi obiettivo ti metti nella testa di raggiungere mettere del tempo da parte è la cosa più utile che puoi fare nella tua vita riservare del tempo tutti i giorni per realizzare ciò che più desideri anche poco tempo tutti i santi giorni tutti ah man a a a Grazie a tutti.